La necessità di avere un processo politico inclusivo in Egitto, perché credo che sia un bisogno, un astuto della politica ma anche della società egiziana. Ne abbiamo discusso, ma non sono io a determinarne chiaramente l'esito. Però è un punto che ho sollevato, io ho sollevato le preoccupazioni del governo italiano per le condanne a morte di massa, abbiamo discusso della situazione economica del paese e abbiamo avuto una discussione anche sulle riforme economiche. Io ho parlato con il Secretario Generale dell'OSCE ieri notte, questa notte, credo che sia fondamentale che i separatisti italiani garantiscano il...